Sto cercando di smettere sigarette, ma non ce la faccio, perché diciamo che la scritta il fumo uccide non mi aiuta, ma semplicemente il cammette vive e non me va. Quindi dovrebbero fare i pacchetti per i depressi, cioè dovrebbero scrivere il fumo ti aiuta a uscire di casa e a incontrare gente nuova e stimolante. E allora uno dice no, sti cazzi, ne sai che stavolta smetto per davvero. Invece no, il fumo uccide e uno continua. Poi mettono ste foto che fanno paura, quello col buco in gola, i buchi dappertutto, quello che gli manca un dito del piede. Ma come cazzo fumi? Cioè, il problema, cioè se ti manca un dito del piede, amico mio, se ti manca un dito del piede, l'ultimo dei tuoi problemi è il tabagismo. Perché vuol dire che fumi chi i piedi. E poi mettono ste avvertenze sulle piccoli dipendenze. Bevi responsabilmente, il fumo uccide, giochi responsabilmente. Io non so se ci avete mai avuto un problema, un amico con delle dipendenze. Sapete che cosa non ascoltano di solito? I consigli. Non ascoltano i consigli dei amici, pensa se ascoltano i consigli dello spacciatore. Grazie. 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 Grazie.